ok ragazzi ecco qua montato in danni stanno facendo lavoro a fianco a casa mia e ho finito rimontare anche quest'altra sedia in modo tale da avere due fili diverse in un totale di quattro sedi guardate questo era il pezzo che mi è arrivato questo poggio spalla che ho messo già dove sedersi ed ecco qua la sedia completa in modo tale da avere quattro sedie fantastico quindi ragazzi mettetevi like, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video ciao a tutti belli